La ricorrenza del 10 febbraio, solo unità civile nazionale che ricorda i massacri delle foib e l'esodo Giuliano Dalmata, occasione di riflessione da parte di rappresentanti istituzionali di alcuni studenti degli istituti superiori della regione, docenti dello storico morese e del giornalista e scrittore Messina. Il Consiglio regionale della Basilicata tramite l'iniziativa percorso sulla memoria, curato dalla struttura di coordinamento di informazione, comunicazione ed eventi, in continuità con quanto fatto lo scorso anno, ha organizzato una lezione a distanza con alcune classi degli istituti superiori, liceo artistico Levi di Matera, l'Ipsia Giorgi di Potenza e liceo classico Fortunato di Rio Nero in Bultore. La storia, detto il presidente del Consiglio regionale Cicara, rivolgendosi agli studenti, non va cancellato o disconosciuta, ma deve essere il nostro faro da cui attingere per non riscrivere altre brutte pagine di storia. Noi rappresentanti istituzionali abbiamo il dovere di adoperarci perché il dialogo, il rispetto della diversità diventino la base del nostro agire quotidiano. Abbiamo una grande responsabilità, quella di guardare gli errori del passato per porre rimedio alle tante ingiustizie del nostro presente. Il 10 febbraio è una data che rende giustizia dopo decenni di voluto oblio, ha dichiarato il segretario dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale Leggeri. C'è voluta la caparbietà di storici cittadini che non si sono arresi di fronte all'indifferenza di una parte del mondo della cultura e della politica che hanno voluto tenere nascosta per furore ideologico un'altra grande tragedia della storia italiana. I tempi sembrano maturi per celebrare anno dopo anno una giornata all'insegna della riflessione con le tossine dell'odio sempre più smaltite, con il sorriso indimenticabile di Norma Cossetto che non potrà essere dimenticato.